eccoci ragazzi siamo live stiamo live e adesso andiamo live anche su instagram tac aspetta 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 ragazzi come state tac siamo live instagram youtube facebook buonasera a tutti ragazzi come state mi dite se ci siete mi commentate mi sentite come andiamo come andiamo come va come va tutto quanto eccoci eccoci parliamo di perché l'e commerce è il miglior business ha vinto in assoluto e ci sono le prove ciao ragazzi ciao grandissimi e perché soprattutto bisogna iniziare adesso ciao ragazzi mi sentite da instagram mi dite sì mi senti no non mi senti tutto a posto ciao ragazzi ciao buona ciao boss ciao alessandro grande ok mi sentite tutto a posto allora parliamo stasera di perché l'e commerce ha stravinto sotto tutti i punti di vista e soprattutto perché bisogna iniziare adesso va bene quindi ragazzi ok grazie mi avete dato la conferma quindi mi sentite allora iniziamo subito ragazzi intanto oggi c'è stato praticamente il record il record mondiale di vendite e commerce tipo un milione e passa in 18 minuti una cosa del genere fatto dal creato dal cioè questo record è stato realizzato da questo ragazzo di 20 anni owner ovvero fondatore del brand moon magari sicuramente molti voi l'hanno già visto di make up va bene buon pomeriggio creatore grande gabriele grandissimo e commerce boss e vabbè lo cambio dopo alessandro mi sarò sbagliato a scrivere quindi alessio dopo possiamo continuare con le domande intanto fammi finire il discorso ragazzi fatemi prima parlare poi facciamo tutte le domande quindi ragazzi questo ragazzo di 20 anni a 20 anni è riuscito a generare un milione in 18 minuti ok allora adesso spiegatemi voi quale altro business al mondo ti permette di generare dei risultati del genere adesso me lo scrivete per favore perché ancora non lo so non esiste info prodotti non esiste altra cosa l'e commerce è il business cioè lo dimostra il fatto che non solo jean bezos è l'uomo più ricco del mondo grazie all'e commerce ma soprattutto i grandi grandi otto minuti se non sbaglio esatto alessio ho pubblicato la storia oggi cioè incredibile a parte vabbè tutte queste storie le vedo da anni cioè di brand anzi faccio diversi ho fatto diverse case studio riguardante l'e commerce come per esempio jim shark di ben francis che tra l'altro ha un canale youtube ragazzi che vi consiglio di andare a vedere e parla proprio di come lui ha costruito il brand jim shark ragazzi che fattura la bellezza di 200 milioni l'anno vendendo leggings comunque prodotti per l'abbigamento della palestra che sono relativamente sì sono di buona qualità però parliamoci chiaro sono prodotti che puoi trovare tranquillamente a decadron o altri negozi qual è la differenza la differenza lo fa il brand e il brand con e commerce con shopify con ovviamente social media marketing è l'opportunità migliore che si può realizzare adesso soprattutto per chi adesso sta iniziando perché adesso ragazzi ci troviamo in una grazie a questa situazione che tutti conosciamo in un periodo storico all'interno del quale le pubblicità a pagamento come per esempio su social media marketing facebook in particolare facebook instagram ma in particolare facebook che è il migliore costano di meno ragazzi siamo tornati al cpm cpm ovvero il costo mille visualizzazioni di qualche anno fa va bene quindi adesso fare pubblicità su facebook costa molto di meno ora questo ovviamente è un vantaggio però è un vantaggio per chi riesce a usufruire di questo vantaggio oppure chi riesce a capire veramente il vantaggio enorme che si sta avvenendo adesso ok probabilmente si sta riavendo una specie di refresh di tutto il sistema e-commerce tutto il sistema economico in generale e questa ragazzi moltissime persone che non ci capiscono niente della vita in generale ma dell'economia pensano che questo sia un periodo di crisi invece no è proprio il contrario per chi sa veramente come trarne vantaggio da questa crisi cioè la crisi in verità non esiste solo solamente le regole del gioco che cambiano 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 e di conseguenza i soldi vanno da una parte all'altra ma c'è sempre uno scambio di denaro c'è sempre chi vende chi compra ci sarà per sempre cambia solamente le modalità con le quali si possono buonasera ragazzi si genera viene generata ricchezza questo cambia ma non cambia non funziona come la gente vi fa come il sistema la società vi fa credere bene ragazzi le foto sì le foto le domande me le fate dopo che finisco il mio discorso quindi vi guardate e vi ascoltate quello che ho da dirvi e poi mi potete fare tutte le domande che volete cosa ne pensi della cricca di Shopify expert che vivono tutti a Dubai e vendono corsi da 500 euro penso che loro a vendere corsi sono bravi non sono bravi a fare a generare ricchezza con Shopify o con l'e-commerce perché falsificano i risultati e ci sono le prove online oltre che io lo so perché ho già comprato ho già avuto esperienza in America e in America facendo le stesse cose che fanno qua in Italia solo che voi giustamente siate beginners lo vedete per la prima volta però tanto ci cascherete pure voi ragazzi è tutta esperienza cioè se voi comprate corsi da gente del genere poi capirete veramente veramente da chi prendere informazioni giuste e imparerete come ho imparato io 90% dei corsi che ho comprato in America sono state fregature in quello mi ha insegnato tantissimo voi pensate no no hai buttato soldi no invece no perché io adesso in un secondo ti so dire se è quella persona affidabile oppure no e so esattamente da chi comprare un corso oppure no ragazzi questo ragazzi lo fate o lo capite o fate un'analisi prima fate uno studio delle persone andate non è stata la qualità ripagano sempre lo so per questo che io ho creato il canale sono sempre stato trasparente dall'inizio gli italiani intendevo eh lo so gli italiani sono la stessa cosa cioè non è che cambia qualcosa campano con campano inizialmente con la vendita di corsi che sicuramente se vendono corsi sono bravi però tocca vedere come hanno come ottengono i risultati come hanno ottenuto i risultati prima e cosa possono veramente insegnare perché ragazzi la verità è che io ho diverse foto diverse foto cioè screenshot di gente che mi scrive mi dice ho preso il corso di quello faceva schifo ho preso il tuo e tutta un'altra cosa io adesso non è questa una cosa che sto dicendo io se andate su montana business online.com recensioni lì sono online tutte le recensioni di metto a disposizione online a disposizione di tutti e là ci sono le conversazioni di persone che mi dicono che ho preso il corso da quell'altro faceva schifo ho preso il tuo è un altro mondo ora potete non credermi credermi basta che andate online www.montana-businessonline.com recensioni e là io pubblico tutto perché non c'è proprio niente da nascondere anzi c'è tutto da mostrare quindi ragazzi ciao ragazzi ciao creatore come facciamo a studiare le persone esattamente questa è una bella domanda ragazzi quindi andrei a gestione dei residui e spero nel programma avanzato quindi come potete scegliere voi perché giustamente voi non avete la minima idea di chi scegliere dici ok c'è sta quello di Dubai c'è sta quello di che vive su Marte quello di New York quello chissà dove vive ok allora principalmente sta storia di uno dove vive non vi dovrebbe interessare perché se uno vive a Dubai o uno vive a New York cosa vi cambia a voi non è che se uno vive a Dubai o uno vive a New York c'è più garanzia che vi possa aiutare direttamente a voi o sbaglio no ditemi se sbaglio così ne parliamo in chat tranquillamente quindi intanto la posizione del mentor o del guru o chiamatelo come volete a voi non dovrebbe interessare perché non è indice che lui sa più cose di un altro oppure vi possa insegnare qualcosa di più utile oppure vi possa aiutare a risolvere quel problema determinato ok perché per esempio sono troppo forte lo so Massimo perché per esempio in America Sam Owens vive in ma tutti la maggior parte degli imprenditori americani quelli che fanno i milioni veri cioè parliamo di imprenditori tipo Zuckerberg questi qua loro vivono in America in California dove là le tasse sono più alte che in Italia e non gli interessa proprio perché il loro obiettivo è guadagnare sempre di più quindi sta storia cioè in verità mi fa ridere perché giustamente vabbè voi vedete pubblicità tutto quanto non lo sapete però i ricchi veri non gliene frega niente delle tasse cioè i ricchi veri stanno in America in California vivono in un monolocale ma ci hanno milioni e milioni e milioni e miliardi di euro in banca come per esempio l'owner e il CEO di Shopify il CEO di Shopify andate a vedere si chiama tipo Tobias Luke una cosa del genere ma non mi ricordo come c'è un nome strano un cognome strano che è tipo tedesco e lui per esempio c'è Shopify vale tipo un miliardo però lui è una persona normalissima tranquilla anche Warren Buffett che è uno dei uomini più ricchi del mondo insieme a Bill Gates si veste tutti i giorni uguale da 50 anni a sta parte vive in una casa normalissima nonostante abbia valga miliarde e miliardo eh Tobias Luke esatto valga miliarde e miliarde di dollari ragazzi quindi relativamente Francesco ho creato il sito sono un passo a lanciarlo ma mi sono bloccato troppi pensieri bravo non devi avere pensieri devi raggiare che pensieri vuoi avere lancialo buttati altrimenti come fai a evolverti ragazzi è la legge di Darwin è la legge veramente numero uno della storia dell'uomo cioè sopravvive solo chi è capace ad adattarsi ai cambiamenti che lo circondano che siano cambiamenti economici che siano cambiamenti climatici sono sempre cambiamenti chi rimane lì e ancora sta aspettando il posto fisso e tutte queste cose qua e poi se lamenta dice eh ma non c'è lavoro c'è sta lavoro se tu non sai dov'è il lavoro ce lo si crea Edoardo è possibile sì è tutto possibile vai a vedere in California quanto sono alte le tasse quindi tutta la Silicon Valley per esempio tutti i miliardari che stanno da Silicon Valley quelli pagano tantissime tasse ma dato che fatturano così tanto pensano all'unica cosa che conto è davvero guadagnare guadagnare sempre di più di più di più non è problema le tasse non è che stanno a pensare questo mese ho fatto 10.000 se vivo di là me risparmio 3.000 no tu non devi pensare 10.000 devi pensare 100.000 a 1.000.000 ok e questo è il mindset che dovete avere Stefano tutto pronto manca solo il primo prodotto da vendere salvo e che aspetti a trovarlo io te lo spiego esattamente il programma avanzato come trovare il prodotto vincente senza rischiare ok sapendo già che vende questo è fondamentale buonasera Stefano sei un grande ma davvero ti volevo salutare hai fatto bene salutami Giampietro posso chiederti perché te ammosca per quello che è per quello che tira di più di un carro di buoi allora Giampietro inizialmente ero qui per business inizialmente ero qui per business allora ragazzi io sto cercando di essere il più professionale possibile quindi vedete come sono professionale giacca e cravatta e tutte cose ecco questa è un'altra cosa ragazzi la professionalità questa cosa mi ricordo da ragazzo quando andavo all'università la professionalità devi andare al lavoro giacca e cravatta cioè ragazzi la professionalità cosa significa cioè cosa significa professionalità me lo spiegate non significa niente allora esiste solo chi sa risolverti problemi chi è capace di risolverti un problema in questo caso io so insegnarvi come creare un e-commerce come vendere un e-commerce come vendere in dropshipping in meno di 24 ore questo risolve un problema la professionalità non significa assolutamente niente quindi vabbè a parte sta parentesi così lanciata a caso perché sono a Mosca perché per business ho qua un business partner perché voi dovete sapere ragazzi che tutti i soldi che guadagno io li rinvesto ok perché non mi accontento mai è sempre tutto un gioco a rialzare ok a Mosca è impossibile lavorare infatti non è facile però calcola adesso hanno 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 fatto lockdown anche qua quindi principalmente adesso mi ritrovo nella situazione che state anzi no in Italia mi sa che stanno stanno sbloccando no ragazzi mi dite che succede in Italia perché io non sono aggiornato non leggo non leggo notizie non guardo video lavoro e basta quindi comunque adesso c'è lockdown quello pesante e quindi per quanto riguarda quella storia è molto più complicato ciao Marco sì assolutamente adesso farò voglio fare un video sulla routine giornaliera e cosa dovete fare dalla mattina a sera quando andate a dormire quando vi svegliate e soprattutto cosa dovete mangiare dovete leggere dovete studiare e soprattutto chi dovete seguire come mentor perché evidentemente nessuno lo sa cioè lo capisco che siate beginners però è una fase fondamentale quindi ragazzi prima ero qui per business poi che è successo semplicemente hanno bloccato tutti i voli cioè io sono arrivato qua pensate che era proprio il periodo aspetta quando sono arrivato qua era inizio marzo sì era inizio marzo e praticamente hanno quando arrivai io iniziarono iniziarono i controlli quindi arrivai all'aeroporto c'erano tutte le persone tutte le persone che praticamente sai come come nei film di fantascienza nelle guerre nucleari come si chiamano le tute ecco le tute complete e con queste due complete controllavano chi era malato e chi no quindi io già era inizio marzo e già la situazione era critica e poi mi hanno fatto entrare proprio per fortuna mi ricordo bloccarono due italiani all'aeroporto cioè calcolate che arriviamo lì due ore di controlli di controlli di malattie cose del genere tutto quanto e poi gli ultimi due italiani quelli cioè praticamente gli ultimi dopo di me che controllarono li bloccarono all'aeroporto e penso sono rimasti là per almeno due ore non so se se gli hanno scoperto che qualcosa oppure no luca ho 15 giorni ho 15 ordini qualche alternativa troppi valida luca ho 15 ordini in elaborazione da 10 giorni e non mi danno il tracking code luca gli droppi prova diciamo che qualcuno si sta lamentando comunque luca mi fai sta recensione per favore fai una video recensione e me la mandi ok su whatsapp e instagram fai il bravo su allora tu hai la barba ci sono ragazzini senza un pelo di barba che cercano di fare i guru a 18 anni e questo è il top vabbè ragazzi ma ci sta comunque loro pensano pensano che il vendere corsi fare mentor guru roba del genere sia uno dei business migliori perché essenzialmente tu vendi in corso che ne so 100 euro 1000 euro quello che è e non c'hai i costi perché essenzialmente non capisco la differenza tra e-commerce e business online è come business online Andre voi di facebook è praticamente il business cioè fare affari online business sarebbe affari o attività online completamente online e e-commerce è uno dei business online ed è il migliore come abbiamo detto in precedenza poi lo ripetiamo quindi il problema questo è un altro un altro ci parlerò farò e-commerce versus guru versus info products o versus corsi e cose del genere e io faccio ovviamente tutto quindi so di cosa sto parlando e ti assicuro che il business dei infoprodotti e è bravo Luca fammi sta video recensione bravo e soprattutto Alessio te rispondo su quantità ti servono per fare Luca like audience per inizi acquisti te lo dice facebook quanti ne servono quindi assolutamente qualche attenna di outdroppi si jacofai oppure big buy ce ne sono diverse comunque se no dropshipping agent Matteo spiego esattamente nel programma avanzato quali paesi sono migliori quindi per quanto riguarda appunto la vendita dei questi benedetti videocorsi ah quello vende videocorsi e quello fa di qua di là allora è il mercato più saturo che esiste proprio per questa ragione perché chiunque chiunque come un ragazzino senza barba chiunque può mettersi lì fare le facebook ads dire che è un esperto ok e vendere videocorsi si può permettere questo perché vende corsi che ne so 500 euro 1000 euro e c'ha praticamente 100% di margine ok tuttavia dov'è il downside ecco già non riesco più a parlare il downside ovvero il lo svantaggio enorme di questo di questo di questo vendere corsi e roba del genere è che semplicemente tu che non sai assolutamente niente e ti metti a vendere videocorsi quindi informazioni inutili ti bruci il mercato quindi ti sei bruciato e tu se fai personal branding come sto facendo in questo caso e non sai e non sai quello di cui stai parlando ti bruci ok il mercato italiano non è così grande ragazzi ci metti un attimo a edoardo non penso assolutamente niente di nessuno perché non li conosco e non mi interessano io sono gli americani che sono il top mondiale e tutte le informazioni migliori informazioni che ottengo oltre ovviamente allo studio dei top americani e lo studio mio sul campo a mettere in pratica io lo metto a disposizione a pagamento nel mio programma avanzato che per adesso sta a 400 vabbè 3,99 però aumenterà di prezzo quindi ragazzi decidete voi cosa fare quindi ragazzi esatto tempo di fare 1 o 2 milioni poi non venderanno più i corsi invece quello che molti non capiscono che sta storia di vendere corsi è un gioco sul lungo termine ok soprattutto quello di essere un guru un mentor chiamatelo come volete un mentor è un gioco se tu vendi fuffa ok all'inizio con i corsi la gente non ricomprate la gente soprattutto sparge la voce soprattutto in Italia il mercato è molto molto piccolo cioè non è grande il mercato voi immaginatevi che chi è interessato a sta a sti business online sta storia dei fai soldi online che alla fine non è una storia cioè è una delle occasioni migliori che una persona può avere nella vita solo che la maggior parte delle persone approcciano in una maniera sbagliata perché non è facile assolutamente fare business online e non è facile fare e commerce è per questo che molte persone dicono ho iniziato ok inizi devi fare cose fatte per bene è inutile che inizi te lo dico subito ragazzi se state iniziando così a caso a fare dropshipping e commerce potete smettere tranquillamente ve lo sto dire smettere tranquillamente perché state perdendo tempo e soldi vi serve una guida una persona che vi dice esattamente cosa state sbagliando e cosa dovete fare quindi se voi come se voi iniziate perché non è facile lo sto dicendo non è facile assolutamente fare e commerce dropshipping ma in generale business online perché c'è c'è più competizione c'è competizione non state da soli e per quanto riguarda ovviamente e commerce avete molto più spazio di manovra e soprattutto avete una miriade di prodotti che potete vendere soprattutto potete vendere in tutto il mondo in qualsiasi lingue quindi non siete ancorati al mercato italiano ok e a differenza del appunto di vendere corsi cioè ragazzi non iniziare a vendere corsi i ragazzini di 18 anni non iniziare a vendere corsi a fare cose che non sapete fare se non avete veramente qualcosa da dare delle informazioni utili alle persone se no le persone capace si ci cascano una volta ci cascano ci cascano quelle persone ci cascano perché alla fine basta fare una landing page e mandare il traffico e farci cascare la gente però non è quello non funziona così la vita ok fate i soldi si quel periodo poi vi siete bruciati per tutta la vita il mercato italiano che ripeto non è così grande da potervi permettere di di bruciarvelo ciao super italiani russia ciao attraverso queste cose quindi se voi avete 14 anni 18 anni non iniziate a fare queste cose non iniziate a vendere a fare finta di essere curi e cose del genere fate prima i soldi guadagnate se volete diventare guru dell'e-commerce dropshipping fate come ho fatto io generate più di 2 milioni di euro di fatturato in in qualche anno con l'e-commerce e dropshipping e poi vi mettete a insegnare alle persone quello che sapete ok ma prima le cose le dovete sapere altrimenti come fate ah si vabbè fate come vi pare se ci avete 18 anni comunque il miglior consiglio che vi posso dare è iniziate veramente a fare e-commerce e dropshipping anche perché è l'unico business che ti permette di veramente scalare a livello mondiale senza nemmeno doverci mettere la faccia ok senza dover parlare con le persone direttamente ma semplicemente facendo un negozio Shopify scegliendo il prodotto giusto come vi insegno io il programma avanzato e soprattutto scalare con i Facebook ads cosa che il 99,9% dei persone non sa fare perché non ha mai speso una lira di Facebook ads e soprattutto vendendo e-commerce ok siete i migliori per acquistare in dominio Namecheap e però lo puoi acquistare anche da Shopify cioè è tutto collegato altrimenti a Namecheap devi collegare il DNS ragazzi potete fare un po' di domandine se volete dai adesso voi di Instagram state lì scalpitando qua su YouTube ragazzi voi di YouTube non fate i vaghi mettete mi piace per favore su Stefano quando lo fai il video sulla dopamina sarà molto interessante e lo farò presto per fare è fare affiliate affiliate lì con gli influencer quindi affiliarli a me dando i link che apri consigli per fare affiliate cioè tu hai un prodotto Gabriele quindi non è dropshipping hai un prodotto tu e vuoi fargli praticamente fare affiliate marketing o un altro ancora allora io ti consiglio di dargli un metterti invece di fare affiliate marketing con influencer metterti d'accordo sulla percentuale da dargli e soprattutto dagli un codice promozionale lo crei e stai a posto senza tutte queste app perché ragazzi vi ricordo più app mettete nel vostro store e più lento vi ha il sito e più lento vi ha il sito peggio performeranno le vostre ads le vostre facebook ads google ads io queste cose le spiego nel programma avanzato ragazzi è inutile che pensate di andare sopra cioè le spiego molto molto di più questo è uno dei dettagli che vi sta facendo perdere un sacco di soldi ma ci sono un'altra miriade di dettagli che vi stanno sfuggendo vi stanno facendo perdere soldi e voi manco ve ne rendete conto vabbè voi fate come vi pare ovviamente per chi non fa parte shopify obbligatorio e si può utilizzare proprio il proprio sito che regge bene l'utenza che viene dalle ads no shopify obbligatorio perché io ho usato woocommerce woocommerce che fa che va bene per avere un blog o un sito tuo però non va assolutamente bene a fare e-commerce perché a me mi è crashato un sacco di volte soprattutto quando faccio le promozioni un influencer consigli per proteggersi dalle frodi che tipo di frodi che tipo di frodi intendi prego Gabriele quali pensi sia il miglior prodotto da vendere in drop che abbiano un profitto costante so che lo spieghi nel corso che ho comprato ma ancora non sono arrivato a quel punto eh Alessandro che aspetti quella è la parte più importante cioè la parte importante è la selezione del prodotto ovvero non vendere un prodotto a caso che pensi sia funzioni devi esattamente fare quello che ti spiego io nel programma e andare lì fare la ricerca come ti spiego io e soprattutto andare a controllare se già sta vendendo che quella è la cosa più importante non decidi tu se il prodotto è vincento o no decide il mercato quindi il mercato ti dice esattamente se sta vendendo oppure no e se tu lo puoi vendere ok puoi prenderti quella fetta di torta ragazzi instagram qua non fate domande allora rispondo solo a youtube carte clonate consiglio per proteggersi dalle frodi ah in tanni di chargebacks allora principalmente shopify te lo dice se c'è qualche rischio di frode per esempio l'ip shopify se lo dice se tu vai sull'ordine shopify c'è la sezione che ti dice dove ha comprato e se c'è un altro se è possibile che sia che sia che sia frattolante o meno prego alessandro bruno ho comprato il corso non ho ancora video possibile perché ho creato l'account facebook allora bruno mi mandi mi iscrivi su whatsapp 333 299 3460 oppure su instagram stefano montanarial e ti ricreo l'account per accedere va bene i veri gradatori sono su youtube no anche su instagram mi seguono solo che sono più timidi a me fanno le domande oppure fanno le domande e poi scappano allora aspettate un attimo soprattutto sul mindset quale mentor seguire a parte te sul mindset allora io vi consiglio ragazzi quanto riguarda il mindset ottima domanda bravo jpcola aspetta un po' si official boom official boom praticamente per quanto riguarda le domande private le domande ovvero riguardanti ragazzi molti di voi mi fanno le domande mi scrivono su instagram mi bombardano mi fanno le domande su super email allora qualsiasi domanda che riguardi una consulenza diretta ovvero un consiglio diretto che sia sull'e-commerce dropshipping eccetera eccetera allora l'unica alternativa che avete gratuita è o me ne fate qui su youtube e sperate che vi rispondo oppure su su youtube anzi no su youtube anche si su youtube potrebbe essere vi rispondo però nel senso su youtube nei commenti sotto i video la potete commentare e potete aspettare che vi rispondo questo in maniera gratuita oppure vi rispondo tramite live direttamente per quanto riguarda le consulenze dirette se mi scrivete su instagram dice ma come faccio a importare come faccio a vendere di più ragazzi quello fa parte della consulenza che chiedo 1000 euro l'ora quindi inutile che mi chiedete le persone che mi danno 1000 euro l'ora non mi scrivono messaggi gratis mi pagano e poi possono chiedermi tutto quello che vogliono quindi voi potete fare tutte le domande che volete ma sappiate come funziona oppure se volete avere un supporto da parte mia e dei miei esperti e dei miei consulenti accedete al programma avanzato Montana Dropshipping Formula e lì avete accesso al supporto accesso a vita non solo al programma non solo al gruppo di supporto accesso a vita tutti e due e lì potete fare tutte le domande che volete e vi verrà risposto perché avete diritto in quanto avete pagato avete diritto al supporto mio e dei miei esperti Bob Proctor si diciamo che non mi fa impazzire a me ragazzi mi piace più quanto riguarda il mindset principalmente Alessandro rifammi la domanda del metodo di pagamento per evitare problemi adesso la faccio fammi finire il discorso del mindset allora il mindset ragazzi perché è fondamentale perché ogni volta ok questo per esempio è un esempio faccio proprio esempio mio che con il mindset il mindset mi ha permesso di arrivare dove sono dove sono oggi fatturare milioni eccetera eccetera però è stato diciamo un mindset automatico nel senso che io finita l'università ho principalmente ho fatto l'in ok questo diciamo è stato un mindset automatico questa storia ve la racconto sempre perché molti di voi magari non la conoscono comunque se voi andate su montanabusinessonline.com c'è il mio video che dura un'ora della mia storia vi racconta esattamente quello che mi è successo tutta la mia storia e essenzialmente avevo quei 4 5 mila euro da pagare 4 mila e 8 mi pare e ho finito l'università invece di andare a cercare un lavoro come hanno fatto tutti gli altri miei colleghi hanno fatto i stage i stage a 600 800 euro al mese se venivano pagati per 6 mesi un anno e questa cosa adesso mi fa ride però io mi ricordo ancora le facce che poi ribeccavo i colleghi dell'università li ribeccavo gli facevo dei risultati del shopify e mi guardavo tipo così quando loro magari manco venivano pagati dai datori di lavoro però vabbè questo è un altro discorso comunque ho fatto l'in nella vita ho detto a me non me ne frega niente non mi interessa assolutamente niente io non voglio fare una vita convenzionale voglio essere libero di svegliarmi quando mi pare fare quello che voglio lavorare su me stesso e per me stesso e soprattutto guadagnare molto molto di più rispetto a un lavoro convenzionale che bene che va ragazzi cioè ormai l'andazzo dell'economia italiana quello è ma bene che ti va dopo 40 anni prendi 2000 euro al mese è proprio bene che ti va come persona normale va bene quindi l'unica alternativa che avevo e che hanno tutte le persone tuttora è aprire un business proprio e ovviamente online ok quindi quello che ho fatto io ho iniziato con il dropshipping perché era la soluzione migliore per iniziare mi ha imparato tantissimo e mi ha aperto proprio il mondo mi ha aperto le porte del dropshipping dell'e-commerce eccetera eccetera quindi assolutamente il mindset che dovete avere è fare all inna ragazzi questo è il più grande consiglio che vi posso dare perché essenzialmente voi pensate sto spendendo 100 euro 1000 euro 2000 euro ma in verità non state spendendo niente quello veramente che state spendendo è il tempo della vostra vita che non tornerà mai quindi quello che voi pensate ogni volta che vedete i corsi gratis ma quella informazione la trovo gratis trovo informazioni gratis essenzialmente sì cioè su internet potreste trovare informazioni gratis il problema qual è? che a voi vi manca una strategia vi manca un metodo e soprattutto vi manca il mindset quando voi come costruire sto mindset? per esempio uno dei trucchi che non è un trucco ma se ci pensate è vero quando voi comprate un corso comprate un o qualsiasi cosa un video anche un paio di scarpe quando voi comprate un paio di scarpe lo pagate 500 euro quel paio di scarpe vedete voi come lo trattate bene rispetto a un paio di scarpe comprate a 50 euro perché gli date più valore perché avete pagato di più ok? e la stessa cosa è per le informazioni se voi prendete informazioni gratis e passate tutta la vita a guardare video gratis e non vi mettete in azione non vi mettete in azione principalmente perché avete ottenuto quella cosa gratis e per voi quella cosa non ha valore nonostante sia la stessa informazione che potreste trovare un'altra cosa quindi il primo step che dovete fare è acquisire informazioni di qualità da qualcuno che quelle cose veramente l'ha fatta e vi possa risolvere un problema questo è lo step numero uno perché comprare questo corso quando si può trovare online anche se ragazzi parliamone perché io tutte le informazioni le migliori informazioni che ho trovato online gratis non ci sono le migliori informazioni messe a disposizione ovviamente dai master dell'e-commerce eccetera eccetera gratis non ci sono e ho dovuto pagare k e k di dollari anche i corsi da 6.000 dollari per ottenere informazioni che online non ci sono quindi intanto online informazioni gratis vabbè è già una cavolata però diciamo che gira questa informazione ora perché comprare corsi in generale perché intanzitutto voi state vi state committando detto in italiano committed ovvero vi state come si dice in italiano pure studiando sempre in inglese i parlori in italiano me ne scordo vi state praticamente impegnando vi state impegnando in quello che state facendo se voi pagate 500 euro 1000 euro un corso fidatevi al 100% dei risultati che li ottenete rispetto a non pagare quei 500 euro 1000 euro un corso perché semplicemente non l'avete pagato quindi sentite come qualcosa è gratis e allora posso non farla ok è quella la differenza principale da chi ottiene risultati e chi no chi è disposto a pagare per impegnarsi per committarsi detta in italiano anche se non si può dire e quella fa tutta la differenza del mondo ragazzi quella fa la differenza quando voi comprate un corso vi impegnate voi stessi impegnate la vostra anima il vostro corpo la vostra mente a fare quella cosa e fare quella cosa unicamente e quindi chi ottiene risultati in verità è chi paga di più e questo è un trucco tra virgolette della vita e fa parte del mindset ti saluti mia nipote checca pochia ma che stai tipo Bart Bart Simpson bellissima questa grande la prossima volta non c'è casco però non mi piace chi dice ho perso tot io direi ho comprato una lezione di vita esattamente giustissimo JPicola Davide non ti posso dire da chi perché è un conflitto di interessi tutte le informazioni migliori informazioni dropshipper americane e dei e-commerce master americani le metto a disposizione per chi acquista il corso montano dropship in formula ma no perché sono cattivo perché è un conflitto di interessi con un mercato così saturo è utile aprire un e-commerce ragazzi ma che domanda ancora mercato saturo quale qual è il mercato saturo quale nicchia quale prodotto quale targeting quale creatives che significa saturo questa è proprio una domanda da beginner vabbè capisco sei in beginner però poi un'altra cosa non capisco ragazzi ma tutti i video che metto su youtube gratuiti tanto 9 su 10 nemmeno parlano inglese che significa davide no sono americani cioè vabbè c'è pure un altro che non è americano che è uno dei top mondiali che ho comprato il suo corso a un bel cappone tra l'altro il calcolatore di influencer solo quello ragazzi l'ho pagato un k cioè il calcolatore per sapere quanto dovete pagare influencer e come selezionarli sono quella strategia di instagram ma solo quella in k quindi infatti tanto aumenterò il prezzo ragazzi quindi è una questione è una questione di giorni ciao stefano sto creando lo store l'indirizzo di fatturazione deve coincidere con l'indirizzo di residenza eh sì che certo perché no se c'è qualcosa no però altrimenti qual è è ragione mura vabbè vabbè chissà sta il professore italiano ha detto che è un conflitto adesso davide pannone no invece non è vero perché poi sai quante persone mi dicono eh ma quello che ne pensi quello italiano ha ragazzi il 90% di americani come vabbè pure il 90% di americani tanto quello che succede in america succede di riflesso anche anche in italia quello che succede sì esatto la sono curiosità davide perché in america ci sono tanti figuro io ho detto ho comprato tutti quanti tutti quanti americani commerce tutti dropshippers tutti quanti e il 90% erano in eh fregature ok per non essere volgari perché ovviamente questo è un canale peggy eh peggy hate quindi adatto anche ai minori quindi assolutamente non siamo volgari e essenzialmente eh i guru americani ragazzi tutti quelli che fanno vedere Ferrari Lamborghini adesso non li fanno vedere più perché hanno capito la scam ovvero la truffa che c'è dietro questi corsi queste eh far vedere Lamborghini Ferrari e tutte queste cose in america già ci sono arrivati e non fanno più azze con i Lamborghini e le Ferrari eh bella vita perché essenzialmente la gente ha capito che è una cavolata va bene cioè potenzialmente sì però ragazzi è una questione ragazzi è una questione proprio di di base della vita di base della vita allora tutti gli americani che hanno fatto eh fanno vedere Lamborghini e cose del genere è per gli americani come gli italiani è per essenzialmente vendervi i corsi ok perché vi fanno vi danno le emozioni dentro vi fanno vi trasmettono le emozioni tipo cavolo lui con i dropshipping con l'e-commerce con affiliate marketing con i corsi con quel business online con Amazon è riuscito a comprare Ferrari a cambiare la propria vita nì perché c'è c'è stato sicuramente c'è quella persona c'è sarà una persona che ha fatto milioni con dropshipping e e-commerce ma comunque la percentuale che fanno milioni e milioni e comunque stavo parlando veramente meno dell'un per cento va bene che riesce a fare milioni con in questo caso con l'e-commerce parliamo di e-commerce dropshipping eccetera come ho fatto io ma stiamo parlando veramente una percentuale minima questo perché dipende da tante caratteristiche dipende da te quanto lavori e come lavori da quanto sei in grado di esatto per attirare i polli ragazzi ma i polli ci stanno e essenzialmente ragazzi sono sicuro che qua in chat ma perché mi scrivono quindi mi scrivono ho comprato il corso quello è stato inutile eccetera eccetera mi scrivono ho messo i commenti e queste chat anche online su www.montanapistestonline.com recensioni i pollici stan ci saranno per sempre infatti loro faranno sempre più soldi mostrando questo lifestyle queste cars super cars eccetera eccetera per vendere più corsi poi dopo un po' succede che guarda caso dicono che eh questa cars l'ho fittata esce sto video per tipo giustificarsi che avevano la super car ma è successo succede in Italia ma è successo in America un sacco un sacco di volte che praticamente dicono eh questa car in verità l'ho fittata per andare sopra con che l'ho fatta in leasing per fare per far vedere che loro sono imprenditori sono imprenditori di successo che non buttano via soldi perché in verità imprenditori veri quelli tipo Zuckerberg Warren Buffett Bill Gates quelli veramente con due vabbè palle si può dire due palle così quelli in verità non cacciano una lira per tutte queste cavolate ok ragazzi è questa la verità guardano solamente ai problemi che le persone hanno e come possono risolverli risolverli in maniera adesso qua ho bisogno in maniera più efficace rispetto ai competitors questa è l'unica cosa che conta tutto il resto sono tutta fuffa è tutta fuffa per vendere corsi se i pollici cascano quindi ragazzi decide voi se essere polli oppure lupi va bene la decisione è la vostra anche se voi non sapete chi scegliere in verità come ho fatto io non c'è poco da scegliere io ho comprato tutti i corsi non perché mi andavo di buttare soldi ho comprato tutti i corsi americani diversi perché semplicemente ogni persona che veramente ha raggiunto quei risultati ogni persona ha raggiunto quei risultati in maniera differente quindi io posso imparare da più persone allo stesso tempo tecniche diverse strategie diverse che ovviamente hanno ottenuto risultati per davvero quindi è questo il discorso perché comprare più corsi perché ho comprato più corsi a comprare tutti questi americani tutti questi corsi americani perché essenzialmente sapevo che ogni persona poteva darmi qualcosa in più ok pensavo che fosse così però in verità alla fine tante persone vendevano solo fuffa e adesso però mi sono imparato e so benissimo chi vende informazioni di qualità e chi no quindi ragazzi sta a voi se voi non riuscite a capire da soli prima di comprare il vostro primo corso lo imparerete col tempo comprando tutti i corsi come ho fatto io si chiama Stefano come si chiama le brand di make up che ha fatto un milione in 18 minuti e da moco lo conosco questo qua l'owner sarebbe il proprietario ha 18 anni ma infatti che si butta in questo cappo per avere uno stile di vita da ricco arrivano poco lontano se ha una visione più ampia forse può arrivare esatto assolutamente quindi io ragazzi ho iniziato con poche migliaia di euro ho fatto l'inna esatto GP Nicola bravo tu mi piace che fai domande sul mindset quanto pensi che possano durare quelli che fanno queste pubblicità ingannevoli è durato poco ragazzi soprattutto in Italia che il mercato è piccolo cioè fai conto in Italia ci sono 60 milioni di persone la maggior parte vecchi anziani non voglio offendere nessuno anziani che quindi vabbè sono anziani e poi soprattutto chi è interessato a fare business online veramente parliamo di meno del 10% delle persone quindi alla fine il mercato non è così ampio e come succede nell'e-commerce come voi dovete fare con il private label dovete cercare di crearvi una clientela che ricompra da voi che è soddisfatta del vostro servizio delle vostre qualità e delle vostre informazioni nel caso di per esempio un private label del vostro prodotto e ritorna da voi e compra ancora da voi e quello è l'effetto del private label dell'e-commerce che vi farà fare i milioni come è successo per Moon in 18 minuti un milione in 18 minuti come si riprogramma la mente questo farò farò un video altrettanto importante sul riprogrammare la mente si però dai se hai soldi ti puoi spendere che vita è se metti sempre i soldi in manca e non te li godi e non te li godi la vita questo è un discorso che molti fanno ma ti capisco perché lo facevo pure io dici che ci fai i soldi se poi non li spendi ma non è che non li devi spendere il tuo obiettivo è intanto devi prefissarti i tuoi obiettivi quindi scrive proprio su carta e penna i piacenti della vita del riprogetore basta che non spendi tutto il patrimonio esatto ma infatti il 99% delle persone non ha l'educazione finanziaria non ha la minima idea guarda per esempio chi si compra le macchine che si compra i mutui si compra i mutui si compra i mutui per comprarsi le case quella è proprio l'educazione finanziaria che manca che ovviamente non ti insegnano meditazione è fondamentale sia Alessandro non ti insegnano la scuola l'educazione finanziaria in generale come anche come pagare meno tasse ragazzi anche chi vive in Italia se sa come muoversi può pagare meno tasse cioè in maniera legale quindi questo ovviamente non te lo insegna la scuola non te lo insegna l'università devi pagare un sacco di soldi perché sono informazioni che ti salvano un sacco di soldi giustamente ma si può fare tutto cioè l'educazione finanziaria ragazzi è fondamentale è proprio per questo che sicuramente per quanto riguarda godersi la vita i piaceri della vita eccetera eccetera ragazzi sicuramente questo è un diciamo un pensiero che hanno tutti hanno tutti però quello è un effetto della dopamina ok che cos'è la dopamina è essenzialmente diciamo è un meccanismo del cervello che si attiva una sostanza no una sostanza una no un enzima vabbè comunque è una è un meccanismo del cervello che si attiva praticamente quando tu pensi cioè il tuo cervello pensa che tu da quella cosa determinata cosa tu ne stai traendo un vantaggio oppure il tuo corpo ne sta traendo un vantaggio come per esempio ok mi mangio una bella carbonara e sicuramente sono più felice carbonara mangio carbonara sono più felice questo per esempio è una dei godersi la vita piaceri della vita in verità il tuo corpo il tuo cervello non sa che mangiando una carbonara cioè prima di bruciare la carbonara cioè accumuli tantissime calorie ingrassi soprattutto se non fai sport e essenzialmente ingrassando la tua salute peggiora ok questo il tuo cervello non lo capisce e sei tu che devi amministrare il tuo cervello ragazzi comunque queste lezioni sul mindset queste le farò perché sono molto interessanti gp nicola soprattutto tu e poi come quando capire che ti sta prendendo in giro Antonio non è facile smartwatch mi mettetevi vedere se vende ancora oppure no allora avete capito ragazzi non dovete non dovete prendere i prodotti non dovete prendere iniziare se state iniziando dropshipping non dovete vendere prodotti che pensate possano vendere dovete vendere prodotti che già stanno vendendo e prendervi una fetta della torta io non so come spiegarvi anzi so come spiegarvi nel programma avanzato quali sono i principali piaceri della vita secondo te lo sai che io ho fatto un antidopamine un antidopamine no corso cioè beh sì ho comprato tanti corsi relativi per esempio Wim Hof ovvero Heisman che è quello che ti spiega come curare l'infiammazione del corpo attraverso il freddo attraverso le tecniche respirazione e meditazione e quello praticamente ti cura l'infiammazione che deriva principalmente dal cibo da quello che mangiamo quindi una cosa che faccio io sempre è intermittent fasting sicuramente avete sentito se non avete sentito parlare sicuramente ne sentirete parlare è principalmente non mangiare digiunare va bene ora tu mi dici Stefano ma tu sei romano perché non ti fai 3 carbonara al giorno perché fanno male ragazzi cioè è un'infiammazione assurda poi ogni persona ha un metabolismo differente ha un corpo differente bravo belli questi discorsi e lo so che sono belli ma ne parlano molto perché in verità molte persone pensano ah l'e-commerce faccio i soldi faccio Shopify clicco qua invece no deriva moltissimo dal mindset e questo io l'ho capito nel corso degli anni che il mindset è fondamentale soprattutto come curi il tuo cervello il tuo corpo la tua mente è tutto un riflesso sul tuo business quindi tu sei il tuo business ok tu sei quello che mangi tu sei il tuo business tu sei quello che fai tu sei quello che vivi anche l'ambiente intorno a te come tratti le cose come vivi come praticamente io faccio il Ramadan per ore il Ramadan fa benissimo ho tanti amici che fanno Ramadan e sicuramente fa bene fa benissimo perché proprio fai fasting durante tutto il giorno anzi con il Ramadan addirittura fai dry fasting e che sarebbe veramente digiunare senza nemmeno bere l'acqua dici ah ma come muori no non muori assolutamente ma proprio per niente se tu fai allora questo intanto non è un consiglio di un nutrizionista o cose del genere se vi sentite male quella è colpa vostra io faccio io quello che faccio io è perché ho avuto esperienza ho ho studiato il mio corpo ho studiato esattamente come mi dissocio esatto come potenziare il cervello come per guadagnare di più quindi non solo dal punto di vista della salute ma che è fondamentale ragazzi se non c'è una salute col cavolo che con i soldi davvero non ci fa niente a quel punto senza salute davvero non ti godi la vita come diceva prima quel ragazzo prima di tutto come migliorare la salute non solo fisica ma soprattutto mentale per guadagnare di più guadagnare più soldi attraverso il nostro cervello perché riusciamo a pensare meglio riusciamo a ragionare meglio riusciamo a studiare meglio riusciamo a implementare quello che studiamo e soprattutto a metterci in azione quello che la maggior parte della gente non riesce a fare mettersi in azione agire dice eh ma sì ma quel corso comprerà poi eh ma sì ma quel video poi me lo vedo ma sì ma poi inizia a fare shopify inizia a fare e-commerce dropshipping poi 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 non lo fanno e l'occasione che è veramente presente adesso cioè non la prendono non la colgono e poi dicono eh ma non potevo farlo eh bravo potevi farlo intanto ti sei giocato la tua una dei pochi treni che passano nella vita per svoltare veramente la vita il mio obiettivo è arrivato a 4 milioni esatto allenarsi ragazzi esattamente l'obiettivo è bravo devi prefissarti i tuoi obiettivi ok per esempio io avevo l'obiettivo di raggiungere eh inizialmente un milione poi ho messo due milioni e l'ho raggiunto ho messo un milione con shopify l'ho raggiunto ho messo due milioni con shopify l'ho raggiunto poi eh anzi in verità avevo messo inizialmente come obiettivo mille euro al giorno netti di profitto e l'ho raggiunto quindi eh quello che dovete fare però in anni cioè non è un euro raggiunto da uno al giorno all'altro cioè non esistono le Ferrari così le i guadagni così facili ragazzi lasciate sta tutte quelle pubblicità le cose che vedete cioè tutto quello che vedete sono eh se veramente l'hanno ottenuto se veramente non sta non hanno fatto hanno affittato la Lamborghini per fare il video la foto i lats e hanno fatto la foto eh sulla barca sulla jet privato e cose del genere e poi eh per fare gli ads per far vedere che hanno i soldi e poi in verità lo fanno una volta nella vita affittano tutto e poi fanno gli ads e vendono corsi a parte quello io dico i soldi veri i soldi che avete voi che potete utilizzare che potete investire veramente i soldi veri li fate in anni va bene specchietti per upload però funziona ragazzi perché la gente la gente non dico diciamo tra l'inesperta e inconsapevole e ingenua ok diciamo così però altri molte persone sono semplicemente folgorate non hanno una minima idea di cosa scegliere e vedono la prima inserzione che capita e comprano però ragazzi quello fa parte della vita cioè sono errori errori fallimenti anche quelli come succede in qualsiasi business come succede in e-commerce in generale che essenzialmente ti faranno capire come funziona la vita un video risolve i problemi del dropshipping sì Simone vabbè principalmente Simone abbiamo già parlato nel gruppo Montana dropshipping formula allora cioè la situazione è questa cosa come risolve i problemi di ispezione adesso il dropshipping in generale queste sono le opzioni non è che ne esistono altre oltre allora esistono prima di tutto il dropshipping base dall'express e la puoi selezionare come lo insegno io la puoi selezionare dall'express puoi selezionare o i fornitori che si trovano in quel determinato paese che spediscono in maniera più velocemente come in mostro selezionare quel determinato prodotto selezionare il paese di spedizione eccetera eccetera oppure il paese da dove viene spedito quindi che già dentro quel paese è direttamente dall'express e quella è la prima opzione oppure dalla Cina e quella è l'opzione generale quindi all'express dropshipping vedi i tempi di ispezione stimati oppure se vuoi testare i tempi di ispezione te lo fai ordinare a casa e poi vedi effettivamente perché molte volte i tempi di ispezione sono più brevi di quello che mostrano ok tuttavia la situazione adesso è migliorata rispetto a qualche mese fa sono impallati anche loro in verità in Cina in Cina sta ripartendo tutto ragazzi cioè il problema vero sono per esempio i codici postali che hanno bloccato al nord quello è il problema vero però in generale i da l'express i tempi di ispezione più o meno sono sempre stati quelli va bene ora alternativa migliore all'express la più vicina a chi sta iniziando sono per esempio piattaforme come udroppi i prolo gli accofai i big spy ragazzi ce ne sono una marea cioè inutile che mi chiedete io non l'ho provato tutti io ho preso ho iniziato l'express e poi il dropshipping agent o agent che principalmente è la soluzione migliore per chi fa dropshipping in generale che vi spiegherò nel step successivo e quindi prima cosa che potete vedere su all'express ok seconda cosa che potete vedere su yakofai questi siti big buy gli droppi che io personalmente non ho mai utilizzato perché sono passato direttamente a dropshipping agent ok dropshipping agent che è l'ultimo livello del dropshipping ovvero non comprare i prodotti precedentemente ma farli spedire da lui è praticamente una persona un cinese una persona cinese che sta in cina che praticamente ti fa magazzino lui garantendogli un minimo di ordini che vanno dai 10 20 30 ordini al giorno però non paghi i prodotti prima li paghi solamente quando ti arriva l'ordine quindi se tu per esempio un giorno hai 10 ordini un giorno ne hai 20 un giorno ne hai 30 tu non devi comprare sempre prima vi semplicemente la lista come vi insegno io su nel programma avanzato vi insegno esattamente come interagire con il dropshipping agent vi mandate la lista e lui spedisce tutto quanto ok sempre in modalità dropshipping ok quindi questo è il livello ultimo dropshipping poi ci sarebbe anche il dropshipping nel senso che tu non vedi i prodotti non li tocchi mandando il dropship il prodotto direttamente al fulfillment center quindi un centro tipo di smistamento come potrebbe essere anche amazon mandate la roba amazon e poi non vendete su amazon perché amazon è assurdo è tremendo assolutamente non lo consiglio a chi sta iniziando lo mandate amazon e fate spedito a lui in uno o due giorni quindi quella è un'altra modalità di dropshipping nel senso che non vedete il prodotto però dovete comprare lo stock prima ora quindi potete sfruttare anche amazon per fare dropshipping va bene tuttavia all'inizio se questo per chi ha già diversi ordini al giorno e può utilizzare dropshipping agent tuttavia se voi cercate simone se tu cerchi io nel programma avanzato ho messo la lista delle cose che dovete fare per cercare dropshipping agent se tu cerchi il dropshipping agent come ti insegno io nel programma avanzato invii messaggi come insegno io ti ho proprio il template che devi inviare al fornitore eccetera eccetera ci sono anche dropshipping agent che spediscono con un basso quantitativo di minimum minimum order quantity giornaliero va bene molti dicono meglio amatoriali perché così non non sembra avere pubblicità consigli più creative più elaborate o amatoriali consiglio le creative che già funzionano che dovete prendere che dovete utilizzare per vendere allora quando crei un brand monoprodotto lo lanci alla grande alla grande logicamente spendendo per il marketing pubblicitario iniziale come scegliere il prodotto lo spiego esattamente il programma avanzato angelo c'è stanno 11 lezioni su come scegliere il prodotto vincente no una 11 quindi ragazzuoli belli gladiatori credo che la parte del mindset andrebbe fatta all'inizio di qualsiasi corso perché senza mindset la parte tecnica è come un pittore che pensa di essere un artista perché sa di che marca e colorisare è vero assolutamente Luca nel programma avanzato te lo spiego qual è il dropshipping agent intanto fammi la video recensione me la fai adesso così se tu mi se mi fai la recensione ti scrivo direttamente in privato ok facciamo così mi fai una bella video recensione in minuto o due sulla tua esperienza con Montana dropship in formula e i tuoi risultati e ti scrivo mi puoi scrivere direttamente su instagram e ti rispondo Alibaba ecco questa è una delle altre tecniche che potete utilizzare per scrivermi e vi posso suggerire gratuitamente che mi inviate una video recensione una vostra video recensione sulla vostra esperienza con me oppure con il programma avanzato Montana dropshipping formula in quel caso vi rispondo gratuitamente va bene ragazzi quindi Aliexpress Aliexpress per vendere al dettaglio per fare dropshipping con il prodotto ogni volta che te lo ordinano Alibaba è per vendere per comprare l'ingrosso e per contattare i fornitori ragazzi vuoi di instagram mi saluto mi mando un abbraccio un saluto e voi di facebook purtroppo ragazzi voi di facebook terzo occhio la dopamina è segreta nella ghiandola pineale ossia terzo occhio il terzo occhio esatto ma io adesso l'ho visto ragazzi voi di facebook vi saluto in verità in verità l'ho studiato un sacco anni fa sta storia della dopamina però essenzialmente quello che dovete sapere è che è che aspettate un attimo ok intanto instagram è andato quindi a voi di youtube ragazzi intanto mettete mi piace vediamo un po' vediamo un po' se fate i vaghi dai edoardo se entri nel programma avanzato te lo spiego cioè spiego tutto edoardo è inutile che fai domande così a vita cioè spiego esattamente come trovare il dropshipping agent come contattarlo ti do le mail da mandargli e soprattutto contattarlo in maniera professionale no? gli dici ciao cerco dropshipping agent e così non ti rispondono metodi di pagamento che non creano problema blue snap to check out rompe un po' più o meno se fate troppi in pc ve li ve li cioè vi bloccano tutti quanti va bene dai ragazzi ci vediamo domani gladiatori belli di casa ci vediamo domani mi raccomando ragazzi fomentati ok un bacione un abbraccio e un saluto a tutti quanti e poi with me a tutti i i i i i Grazie a tutti.